...all'attacco alle opposizioni, forse tali... Noi siamo garantisti, sempre e comunque. Ci fa un po' sorridere vedere che tra i garantisti adesso c'è anche Repubblica. Evidentemente sono garantisti a corrente alternata. Noi siamo garantisti sempre, sia ovviamente quando le cose toccano noi, ma soprattutto quando toccano gli avversari. Noi chiediamo trasparenza, noi chiediamo chiarezza, noi chiediamo che ci sia una magistratura senza pregiudizi, perché non è possibile, perché se uno fa il sindaco debba essere per forza da considerarsi colpevole. Non è possibile abusare della carcerazione preventiva, ma questo l'abbiamo detto sempre, abbiamo le carte in regola per dirlo. Garantisti sempre e comunque. Noi vogliamo battere Renzi sulle urne, battere Renzi perché ha sbagliato tutto, ha sbagliato politica economica, ha sbagliato riforme, ma non strumentalizzando magari una cattiva magistratura. Tra poco alla Camera arriverà il Didier.